E due, dopo il trionfo dell'agosto 2012 nel Palio dell'Assunta, il fantino pistoiese Jonathan Bartoletti, detto scompiglio, bissa il successo in quella che è la più celebre corsa a cavallo del mondo, vincendo ancora una volta il Palio di Siena. Una gara, come per tradizione vuole il Palio, al Cardio Palma con scompiglio che correva per la Contrade della Lupa, terzo nelle prime due tornate, dominate dal cavallo del Nicchio, seguito dal Drago. Quindi alla terza e ultima tornata la straordinaria rimonta del fantino pistoiese, che supera prima il cavaliere del Drago e quindi quello del Nicchio, per tagliare il traguardo che ora lo colloca in modo definitivo nella storia della più straordinaria gara di cavalli al mondo. Una sorpresa che si affianca a quella del 2012, quando scompiglio vinse il Palio nella prova che lo vedeva esordiente. Un primato condiviso con pochi altri fantini di questo secolo. Indimenticato protagonista della giostra dell'orso di Pistoia, Bartoletti ha dunque ancora una volta sconfitto il pronostico che vedeva ampiamente favorito il Nicchio, contrada a secco di vittori da dodici anni. Un trionfo che ha mandato in estasi i contraddaioli della lupa, nonna del Palio, dato che l'ultima vittoria risaliva addirittura al 2 agosto 1989. Una lunga attesa a cui ha posto ora termine Jonathan scompiglio da Pistoia, in sella a preziosa Penelope.